Sono passati due anni dalla terribile alluvione che a cavallo tra il 15 e il 16 settembre del 2022 causò nelle marche 13 vittime centinaia di sfollati e danni per 2 miliardi di euro, un evento eccezionale per cui è stato prorogato lo stato di emergenza il 17 settembre del 2025 e che vive oggi il pieno della fase di ricostruzione. Oggi si sta impegnando tutta la struttura per garantire una messa in sicurezza del territorio, per migliorare la mitigazione del rischio e per dare delle risposte che erano attese da decenni. A fare il punto due anni dopo è la stessa regione che per lavori di somma urgenza ristori opere strutturali può contare in un tesoretto di oltre 460 milioni di euro. Parliamo praticamente di tante tante infrastrutture che sono state progettate e oggi sono sulla via della cantierazione e quindi dopo la cantierazione la realizzazione e il ripristino di una maggiore sicurezza su tutto il territorio. Dati della regione alla mano, 136 milioni di euro di cui 53 già liquidati sono destinati ai lavori di somma urgenza e agli interventi approvati dalla protezione civile. Sono 122 quelli di ripristino e manutenzione dei fiumi a cui si aggiunge la ricostruzione di 12 ponti, 3 sono già stati completati, c'è poi il fronte dei ristori, 24 milioni già erogati a private imprese, 4,6 in fase di distribuzione ad attività produttive agricole e 2,2 milioni di euro per auto e furgoni danneggiati. La novità importante è che ci stiamo dedicando a mettere a terra le opere del piano del commissario dell'ordinanza 1011 che sono per il momento 130 milioni di euro e che però aumenteranno. Il piano delle opere strutturali prevede 34 opere complesse per la prevenzione del rischio idrogeologico, tra queste le tanto attese vasche di laminazione per la messa in sicurezza del bacino del Misanevola e il comprensorio del Catria nell'Alto Pesarese.